Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Ciao bambini, sono Mago Baldo e sono qui con la Fondazione Salesi per la camminata dei Babbi Natale. Ci siamo divertiti tantissimo con le bolle giganti, con tanti Babbi Natale, dolcetti, caramelle e soprattutto anche con... la barba di Babbo Natale! Eccola qua! Un numeroso coppeo festoso ha colorato le due di Ancona, partendo dal viale della Vittoria, proseguendo fino al centro città e ritorno, per la passeggiata di Natale con il Babbi Natale e l'Italia, promossa dalla Fondazione Salesi Ongus in collaborazione con il comune di Ancona. Un appuntamento gioioso per dare forza e speranza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, ma anche per dare sostegno alla casa di accoglienza della Fondazione. La passeggiata dal viale, che tra l'altro ha avuto un grande successo, è nata con l'intenzione di sostenere la Fondazione Salesi, Salesi e in particolare di, da un lato, sostenere un'iniziativa specifica che è Casa Sabrina, cioè quella struttura residenziale che la Fondazione ha e che mette a disposizione della famiglia che ne hanno bisogno quando i loro bambini sono ricoverati da noi. Contemporaneamente ha una funzione di aggregazione educativa per far sì che le famiglie con i ragazzi possano condividere un momento in cui alle porte del Natale i ragazzi che sono più fortunati, perché possono farla la camminata, dedicano una parte del loro tempo in condivisione con la famiglia per i loro amici, i loro coetanei che sono un po' meno fortunati in quanto ricoverati. Se ciascuno fa un pezzettino, forse facciamo anche un lungo percorso. Sono Diana, la mamma di Lorenzo, veniamo spesso al Salesi e ci ha fatto molto piacere partecipare a questa passeggiata. Oltre a Diana, mamma di Lorenzo, sono state tante le famiglie e i bambini che hanno partecipato alla passeggiata della Solidarietà, insieme ai tanti medici e operatori del Salesi e ai clown dottori che per l'occasione si sono vestiti da Babbo Natale. Coinvolge tutti gli amici di Ancona e non solo che vogliono aiutarci a sostenere questo meraviglioso progetto della fondazione dell'ospedale Salesi, la casa di accoglienza per tutte le famiglie dei bambini ricoverati in ospedale che hanno bisogno per qualche motivo di restare vicino a loro. Ciao, sono Claudia Rossi, sono strafelice per partecipare alla passeggiata Solidarietà organizzata dalla fondazione Salesi. È un bel momento per stare tutti insieme e per fare del bene allo stesso tempo. La campionessa mondiale di vela d'altura non è l'unica sostenitrice di questa come tante altre iniziative della fondazione. C'erano anche il campione del mondo di Fioretta Squadre, Tommaso Marini, il vicepresidente del Comitato Italiano Parolimpico, Roberto Novelli, ma soprattutto gli operatori della Pet Therapy che con i campioni a quattro zampe accompagnano nelle cure i bambini. Ciao a tutti, sono Cristiano da Magica al Pet, sono i miei collaboratori Zuma e Tofì e questo è il mio amico Itan, che seguiamo a casa nel progetto di Pet Therapy a domicilio.